Eh? Eh? What? Cioè ragazzi, cosa? Cosa cazzo è questa cosa? Per dirvi eh? Ma cosa cazzo è diventata Pinnacoli? Cosa? Ragazzi lo sapete voi, a Pinnacoli già ci andava tanta gente, lo sapete ora che c'è questa cosa a Pinnacoli, le altre città se le scorderanno del tutto, le altre persone, lo sapete? Oh che bello, questa cosa ragazzi, non fotti di cosa perché ci metterai due secondi per andare da una città all'altra, che bello. Vabbè, l'abbiamo vista Pinnacoli, ok? Non ci serve che la vi rivediamo. Che figata ragazzi, che cosa è? Che figata! Voglio andare dall'altra parte, voglio andare a vedere il vulcano che è a metà vulcano. Ah, sono cascato. Vabbè, il materiale. Ragazzi, questa sezione 9 è troppo bella, voglio farò vedere anche il passo. Ragazzi, è troppo figa. La mappa, mmm, la vogliono cambiare ancora un po' di più. Fanno che me l'ho soltanto corso Pinnacoli, sta cosa. Eh, la mappa mi delude, però la funzione sì, è bellissima perché ci sono anche queste cose volanti che mi piacciono un fottio. Io guardo sempre tutta la mappa, perché cosa è quelle cose volanti? Non l'ho mai visto questo quasi, ma questi con l'anno. Ma si può attirare lì sopra? Guarda qua, lo sto vedendo, ma... Quindi, no, eh, infatti... Ah, sì, si può andare lì sopra. C'è questo coso gigante, come vedete, ragazzi, sciopata anche il passo. La nuova skin del passo. Andiamo su. Che figata questi condotti. Eeeh, cosa, eeeh, cosa? Oh, non mi si apre. Infanto, da quando me lo trovavo... Ma questa cosa si può distruggere? No. Ragazzi, ma il vulcano cosa cavolo è diventato? Ragazzi, il vulcano. Non c'è più il vulcano. Perché non c'è più il vulcano? Perché con la texture non mi si carica? Non mi si è caricato. Ma però io non voglio andare lì. Però sul vulcano voglio andare. Voglio andare a vedere il vulcano. Non mi fa voler a terra, c'è, a terra, c'è. Alleluia. Ora, ecco qui, è qui, è il vulcano. Che cazzo è di figata, ragazzi. Che figata è il vulcano. È diventato tipo una mezza specie di... Come si chiamava? Quella... Eccolo qui l'aereo pochino che ne faceva. Ecco. È diventato tipo una specie, vi ricordate? Magazzino, m'ho fido, quando c'è stato quella... Il cazzo di credere. Eh, hanno fatto tutti i magazzini. E la stessa cosa hanno fatto qui. Mamma mia, ragazzi, andiamo a vedere. Porca trota, ragazzi. Porca trota. Quella non si può andare comunque, non si può andare, eh. Lassopra, però, ragazzi. Questa è la cosa più bella di tutte. Spostarsi in quel modo... Veloce, in quel modo... Veloce, in quel modo... Comunque, ragazzi... Hanno fatto questa città è troppo megalutontica. Eppure questa, ragazzi... C'è. Volevo mettere ora queste città con le altre città. Cioè, come fanno a non venire in questa città bellissima? Ragazzi, abbondiamo il palco giochi e vi faccio vedere il passo. Vediamo subito il lobby per vedere il passo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Troppo bello. Troppo bello. Troppo steep e facendo. Steep e facendo. Troppo steep e facendo. Come ti dà ragazzi, pure il nuovo pompa! Non l'avevo letto questa cosa. Questa è una delle skin. Poi, ragazzi, andatevi a vedere anche... le funzioni che... al tempo... queste qua è bellissime le asce. C'è anche... questo cavolo di bel cosissimo. Poi qua è lui che mi piace tantissimo. Sto cosa mi piace un fattivo, sto ballo. Poi c'è questo bellissimo. Il vasto ballo. Mi piace un fattivo. Poi c'è lei. Che cambia soltanto colore. Quel piccone. Questo è bello col vittorio reale. Fighissimo. Lui non so se si evolve mentre nella partita. Poi c'è questo. Questa è troppo figo. Troppo figo. Bellissima lei. Mi piace tanto. Mi piace questo ballo. Sembra conosciuto, però non mi sa che non l'ho conosciuto. Questo, ragazzi, è bellissimo. Ninja, sembra. Sembra ninja. E questa qua è la skin principale che mi hanno fatto le grecce. Fighissimo. Fighissimo. Non è bellissimo, però è bellissimo. Ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!